Cosa Pandora 1 7 6 5 4 3 2 1 1 Voi Grazie a tutti Buongiorno a tutti, terza giornata di questo rally di Romagna Siamo partiti oggi, 1600 metri di dislivello E vamos, ciao! Ed eccoci, risalire il gruppo Buongiorno, come andiamo? Sempre bene Se non vai bene te, ciao Hai cambiato oggi però Hai cambiato vici? No, sempre lei Buongiorno Buongiorno a tutti i amici da Belgica Come andiamo? Come andiamo? Buongiorno 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 siamo alla ruota di un atleta ufficiale della nazionale italiana non sono italiani, ma lavorare in Lausanne non sono italiani, ma lavorare in Lausanne sono francese, italiani, francese in quella regione della francese? l'Aix-en-Provence francese? sì, lo conosco, io sono seguente allora, le francese amici, è parto bonjour les amis come andiamo? bene, grazie avete recuperato della fatica di ieri? no così così guardiamo che bel trenino che si è formato all'inseguimento del gruppo principale composto da tre atleti italiani, due atleti belgi e un atleta francese sono appena qua buona giornata buona giornata buona giornata guardate il serpentone il plotone della rally di Romagna che si accinge a scalare la vetta queste bellissime colline ciao 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 buon appetito ciao brasilero brasilero ciao la coppia formata dal tandem ciao bellissimi buon appetito ciao 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 questo ragazzo che è dai 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 forza ciao 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 anche stranieri ci sono tanti se ho detto bene i primi quattro della classifica sono tutti tedeschi si arrivano dal nord Europa si si fanno i ristori dov'è che passa l'agriturismo si si però giù giù nella piana si infilano di là in mezzo e vanno a finire nel versante questa montagna qua si va dall'altra parte e quindi un bel giro insomma oggi 40 chilometri bello bellissime zone dai 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 vuoi il caffè? c'è il caffè qui se vuoi grazie ok e niente lui è un atleta che ho conosciuto ieri simpaticissimo ringraziamo la signora la fate anche me? si la volevo ringraziare che offre il caffè ai poveri reporter dai dai c'è il caffè se vuoi ciao a lei a lei è veniva la macchina qua fu è lui diciamo che ci sono persone più serie e meno serie però grazie mille per il caffè c'è l'impegno c'è chi la prende più più seriamente diciamo ci sta guarda qua che bel gruppettino che arriva dai 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 forza ciao grande vuoi il caffè? si ho capito facciamo pubblicità al posto troppo difficoltoso dopo qui Motocrono K1 siamo dietro le fuggitive di giornata siamo sul secondo GPM abbiamo una rappresentante rappresentante del team Acido Lattico come sta andando la giornata? state aspettando il ristoro? si ok se ci fossero ristori con cuccetta guarda sentiamo l'entusiasmo delle atlete all'inseguimento della fuggitiva di giornata da Motocrono K1 è tutto a voi studio grande tifo qui sulle strade del rally di Romagna salutate i nostri telespettatori ciao a tutti e là in fondo un gruppo di agonisti sfegatati pronti a partire riprendi la gallina nel collaio si si ragazzi diamo un po' di sostegno agli inseguitori di giornata bravi 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 io cambio ai miei picchi per una sedia hai visto la gallina? dov'è la gallina? ecco l'aio lì dove? lì parassino stroppo andiamo a vederla la gallina sta sempre lì a guardare ah guardala lì che guarda tu no è scappata è scappata la gallinella scappata vai vai a vedere cacchio altro che pollaio questa è una casa sta sta sempre lì a guardare è veramente esce non esce vai ma la finestra vai ma la finestra guardala la patatona lei vero? è timida ma sta sempre lì a guardare i corridori guarda è fortissimo è paura è paura infatti tutti gli anni ecco che non sono anni che vengono qui a fare il ristoro e allora mia maria si fa una macchina e poi va una stacca e invece poi saltate fuori questa lì li vede questa stacca no grazie bravo bravo oggi vi faccio l'accompagnatore se non è amore questo se non è amore questo se ti fa l'accompagnatore oggi sono ascoltata ma lo sapete perché? le chiavi della macchina ce le ha lei? e anche quelle della casa tifo tifo per la donna bravo prepariamoci al tipo per un atleta che arriva dall'estero siamo sulla terz'ultima salita siamo qua sulla terz'ultima salita di questa terza tappa del rally di Romagna paesaggi sempre al top nel frattempo giunge un atleta di un team romano come procede la tua salita? a fadiga a fadiga dai dai ci siamo quasi pronti acqua grazie ragazzi siamo giunti alla vetta dell'ultima salita di questa terza giornata qui alla rally di Romagna vediamo gli ultimi atleti giungere qui davanti a noi aspetta no no è meglio perché quando quando l'ho fatto io a un certo punto non era proprio direttantissimo perché dovete evitare gli alberi quindi avete qualcosa da dichiarare beati voi vado a dichiarare le spese dalla casa dai 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 che è l'ultima ultima salita di giornata come va? sto già pensando a domani stasera una bella pasta asciutta e si ricupera a domani